L'album Nüt e Crüt L'album è in dialetto bresciano ma la sonorità è quella dell'universo La storia di questa canzone Bortol con Eloch è di questo personaggio della brescia di Simmagie cento anni fa che frequentava l'osteria e si era innamorato di questa Maria Uta che era una prostituta ma non ne conosceva l'applicazione il suo amore è vasto morto, quello non c'era un po' un grezzone pericoloso obbriaco mai non c'era un po' 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 non l'ho trovato, nel culo di pace, invece c'è l'unico della Maria Uto. Mettere questa signora, a caso, che intere, con un cliente, adesso race un più più, che nelle cose, perché sono molto più piccine. Scherzo in un'occhio del, nel cuore del buo, ma esatto in un'occhio, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.